Era appena uscita di casa per andare al lavoro, ma ad attenderla in strada ha trovato il suo ex compagno che l'ha accoltellata ferocemente più di 30 volte. Scene da film dell'orrore a Monopoli dove all'alba di questa mattina una donna di 35 anni è stata aggredita davanti alla sua abitazione e ferita gravemente con un'arma da taglio. L'episodio è accaduto intorno alle 5 in via Monsignor Carlo Ferrari nel quartiere San Marco alla periferia nord della città. A colpire ripetutamente la vittima è stato l'ex compagno convivente, un trentenne originario di Conversano con il quale è anche un figlio di tre anni e mezzo. L'uomo, in base a quanto è emerso, avrebbe atteso in auto sotto casa la 35enne sapendo che sarebbe uscita per recarsi al lavoro, come ogni giorno, in un'azienda agricola di Polignano a mare. Quando l'ha incontrata, tra i due sarebbe scoppiata un'accesa discussione, forse per motivi di gelosia. La lite sarebbe poi degenerata con l'uomo che ha impugnato un coltello e ha sferrato diversi fendenti all'indirizzo della vittima, poi si è dato alla fuga. A chiamare i soccorsi è stata la madre della donna dopo aver sentito le gride d'aiuto della figlia, raggiunta dagli operatori del 118, la 35enne è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Giacomo di Monopoli, ma vista la gravità delle sue condizioni, è stata in seguito trasferita d'urgenza al Policlinico di Bari. Dai primi accertamenti clinici ai quali è stata sottoposta, la vittima ha riportato la perforazione del polmone e danni al bulbo oculare, oltre che numerosi traumi all'addome e al torace. Sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, la donna è attualmente ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. L'aggressore, fuggito a bordo della sua auto e ricercato dai carabinieri della compagnia di Monopoli, sarebbe poi stato fermato dai militari presso una stazione di servizio sulla strada provinciale che collega Castellana Grotti a Conversano. In base a quanto emerso, l'uomo, già in passato, si sarebbe reso protagonista di atti persecutori nei confronti della ex compagna.